Musica Oggi l'inaugurazione dello sportello di giovani per l'inclusione, quali le attività che saranno messe in campo? L'inaugurazione di questo sportello è innanzitutto il passo successivo al lancio del progetto che abbiamo fatto qualche giorno fa. Finalmente abbiamo una sede in cui possiamo accogliere i vari utenti, i vari giovani che vorranno proporci le loro idee, i loro progetti. E noi grazie ai nostri collaboratori, grazie comunque ai nostri consulenti riusciremo comunque a dare loro spazio e opportunità. Ribadisco, io sono qui rappresentante dell'associazione Terre del Verismo, mi occuperò di consulenza turismo sociale, quindi anche io in questa sede posso sicuramente dare la mia disponibilità, dare i mezzi che ho a disposizione per poter concretizzare quelli che possono essere i progetti, le idee di questi giovani. In che maniera verranno svolte le consulenze, quali i giorni di apertura? Allora, innanzitutto sono passati pochi giorni dall'avvio, dalla comunicazione ufficiale del nostro progetto e già subito ci rendiamo operativi. Con l'inaugurazione dello sportello e quindi con esso l'operatività in pieno dell'erogazione delle consulenze che rispecifico a titolo completamente gratuite, consulenze che si avranno dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 9 alle 13 e di pomeriggio dalle 15 alle 19. Volevo sottolineare che Giovani per l'inclusione non erogherà solo consulenze ma ampia il proprio raggio di azione, come? Con dei laboratori in sinergia con le scuole e soprattutto con l'attivazione di tirocini formativi. Ricordiamo che le nostre consulenze sono completamente a titolo gratuito e i nostri consulenti che per natura e specificità di contenuti varieranno sono completamente a disposizione di chiunque fosse interessato. Riduci i sprechi aumenta la solidarietà, una campagna che sarà lanciata proprio dal circolo MCL di Mineo e di Caltogirone. In cosa consiste? I circoli MCL del comprensorio sono impegnati in un'altra prova di cittadinanza attiva. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare al meglio la nuova legge contro lo spreco alimentare e fare in modo che i pubblici esercenti possano conferire le eccedenze alimentari a favore di tutti coloro che aiutano le famiglie più deboli. Noi lo facciamo a Mineo e a Caltogirone mensilmente attraverso la distribuzione di pacchi alimentari e soprattutto qui a Caltogirone dove oggi presentiamo l'iniziativa con la mensa dei poveri aiutiamo in questo momento 10 famiglie, una piccola goccia nel mare ma sicuramente un'esperienza utile. La campagna che noi oggi lanciamo, il povero ha sempre un nome, anche una sua motivazione, un suo significato. Ci rifacciamo alla parabola del ricco Epulone, una parabola nella quale Gesù dà un nome al povero Lazzaro e invece qualifica la persona ricca senza riconoscergli, senza dargli identità. Il ricco Epulone viveva nel lusso, nello sfarzo e invece il povero Lazzaro era dietro l'uscio sempre cercando di cibarsi, di mantenersi con gli scarti. Allora noi vogliamo contrastare, in questo caso direi l'indifferenza della porta accanto, vogliamo invitare il territorio ad essere solidale, sensibile e cercare di dare un nome, di intervenire vicino alle persone deboli che hanno un nome, che sono persone vere in carne ed ossa che vanno certamente sostenute. Quale sarà il contributo del Movimento Cristiano Lavoratori di Caltagirone? Allora sì, diciamo che l'MCL riprende dopo la pausa estiva, appunto con questa bella iniziativa del riduce gli sprechi e aumenta la solidarietà nell'ambito della legge della lotta allo spreco alimentare. Si tratta in particolare della donazione e distribuzione di beni, di prodotti alimentari e prodotti farmaceutici destinati alle persone bisognose. Lo scopo di questa legge è quello di recuperare e donare eccedenze alimentari e prodotti farmaceutici proprio a fini sociali, cercando in questo modo di contribuire alla diminuzione degli sprechi e agli impatti negativi sull'ambiente. Chi sono i possibili donatori? Sono tutti quegli enti pubblici e privati che operano nel settore alimentare e che mettono a disposizione, quindi donano questi prodotti senza alcun scopo di lucro. L'MCL entra in questa iniziativa mettendo a disponibilità anche la propria sede come punto di raccolta di questi prodotti e considera questa iniziativa un'iniziativa importante perché può in qualche modo anche incrementare implementare la mensa dei poveri, cercando quindi di dare continuità ad un servizio, quello della mensa dei poveri, che per diversi mesi ha comunque garantito un pasto completo al giorno a diverse persone. È un'iniziativa della quale ne possono trarre vantaggio diversi soggetti, sia beneficiari di questi prodotti alimentari, sia i donatori, perché è possibile anche per le aziende donatrici di usufruire di una riduzione della tassa sull'Atari. In questo caso la riduzione è proporzionale anche alla quantità di prodotti che vengono ritirati dal commercio e che vengono donati. E' trascorso un mese dall'appello congiunto che CGL, CISL, UGL e UGL con Filt, Fit, Uiltrasporti e UGL Trasporti lanciarono ai soci della SAC e alle istituzioni per sollecitare che la società di gestione di Catania Fontana Rossa venisse liberata dal limbo in cui si trova. Anche oggi nel principale aeroporto siciliano la situazione non è mutata. Ribadiamo quindi la nostra richiesta. Si faccia presto e bene anteponendo agli interessi di parte le esigenze di una terra che ha fame di infrastrutture. I sindacati catanesi intanto esprimono apprezzamento per il metodo concertativo con cui si sta orientando la scelta del nuovo amministratore delegato della società di Fontana Rossa. Concludono i segretari generali di CGL, CISL, UGL, UGL, Filt, Fit, Uiltrasporti e UGL Trasporti. Noi rivendichiamo una soluzione certa, definitiva, rapida e inequivocabile all'attuale caos gestionale in cui è precipitata la SAC. Questo confermiamo è un atto dovuto verso i lavoratori di Fontana Rossa e verso i cittadini dei territori serviti dallo scalo. Attendiamo con ansia che i vertici della società aeroportuale si ricostituiscano in modo da poter nuovamente avere la possibilità di discutere sul piano dei programmi con il management della SAC. Scadranno il prossimo 24 novembre i termini entro i quali i cittadini interessati potranno presentare la richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati che siano prevalentemente destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari oppure all'esercizio continuativo di arte, professione o attività produttiva secondo quanto previsto da un'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale finalizzata alla prevenzione del rischio sismico. L'avviso pubblico e la documentazione relativa è consultabile nell'OM del sito www.comune.caltagirone.ct.it Il sindaco Gino Ioppolo ha firmato una determina con cui prendendo atto delle disposizioni introdotte dalla legge regionale 10 agosto 2016 numero 16 che ha recepito il testo unico in materia di edilizia del 2001 da il via libera a procedure più snelle nel settore dell'edilizia privata. Per esempio molte attività prima soggette ad autorizzazione potranno essere interprese con SCICA da parte di professionisti del settore. Per effetto della presa d'atto delle nuove disposizioni regionali le autorizzazioni del Comune riguarderanno solo gli interventi più importanti mentre per gli altri si procederà in autocertificazione. In particolare con la determina in questione si adotta una nuova modulistica relativamente a certificazione inizio lavori certificazione inizio lavori asseverata, dichiarazione inizio attività, segnalazione certificata inizio attività e permesso di costruire. Il provvedimento contiene pure un vademecum degli interventi edilizzi e dei titoli abilitativi previsti dalla normativa al fine di facilitare gli utenti nella compilazione della modulistica. Sarà inoltre costituito a breve lo sportello unico edilizio che costituirà un altro importante tassello in questo quadro di semplificazioni e beneficio degli utenti. Sabato 1 ottobre alle ore 19 presso la Cattedrale di Caltagirone si terrà l'ordinazione presbiteriale di Don Luigi De Pasquale e Don Luca Gandolfo. Sabato 1 ottobre alle 17.30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale su iniziativa dell'Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio col patrocino del Comune si terrà la presentazione della collana di poeti contemporani in florescenze dell'eterno sbocciare. L'evento, condotto dalla Presidente dell'Associazione Caffè Letterario Convivio, Giusi Contraffatto, sarà aperto dai saluti dell'Assessore alla Cultura, Vito Di Cara ed è la responsabile della Biblioteca Comunale Fiorenza di Bella e caratterizzato anche da un'esposizione di dipinti di Patrizia Falconetti e Mariano Pietrini, dalla presenza delle artiste Maria Luisa Consoli, Sara Occhipinti e Letizia Pirrone e dall'intrattenimento canoro di Alessandra More e Mersi. Prevista anche la presenza di numerosi autori. L'Oggia in Gioco è la giornata ludica dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo per tutti dai sei anni in su che si svolgerà domenica 2 ottobre dalle 10 alle 19 nella Galleria Luigi Sturzo su iniziativa dell'Associazione Shield, soci con hobby di inventare eventi ludici divertenti, col patrocino dell'Assessorato ai beni culturali e delle tradizioni del Comune. L'ingresso è gratuito. Giornata dedicata al fumetto, quella di domenica 2 ottobre, nei locali della Corte Capitaniale dalle 9 alle 20 si svolgerà infatti la Corte del Fumetto, ritrovo con le nuvole parlanti. L'iniziativa, promossa da Gianluca Giarratana, Andrea Ragnolo, Amanda Larocca e Giuseppe Gerbino, col patrocino del Comune, si concreterà in una serie di appuntamenti. Mostra del fumetto italiano, conferenze sulla nona arte, spazio firme di fumettisti siciliani, mostra e conferenza sul trentennale di Ndilandog, confronto e dibattito fra il fumetto e il cinema nel mondo western. Ingresso gratuito. Domenica 2 ottobre alle ore 16.30 presso l'hotel Villa San Mauro a Caltagirone si terrà il terzo appuntamento dell'edizione della rassegna 4 workshop e un evento. Anche quest'anno saranno messe a fuoco le nuove opportunità di business e potenzialità di networking di valore grazie alla presenza di tanti relatori d'eccezione. Tema dell'incontro, la rete, il networking di valore, la comunità degli investitori e la costruzione delle opportunità. Il caso di successo globale di Opportunity Network e di Elite Borsa Italiana, London Stock Exchange Group. Le aziende interessate potranno avere un incontro con i relatori prenotando entro il 30 settembre tramite la scheda di adesione. Al termine dei lavori sarà offerta una degustazione di vini e piatti gourmet.